chiamo a giudizio il mio amore che non ha lealtà né gratitudine chiamo a giudizio le spine che privano della rosa lusignolo chiamo a giudizio le mie pene poiché non ho più fiducia in nessuno chiamo a giudizio la cattiveria che tutto sconvolge e rovina non è rimasto un prete timorato di dio né un principe che ami il prossimo il forte ha divorato il debole agli uomini non è rimasto il respiro né al di là né fede sono rimasti alle belle del nostro tempo da quando invoco equità ed aiuto chiamo a giudizio i miei lamenti il mio pensiero la mia immaginazione sono da sempre rivolti al dolore del mondo sono rivolti ai poveri ai bisognosi ai senza detto ai buoni e al bene le parole di sayat nova sono rivolte al vero e al falso è la ricchezza spietata che priva a giudizio queste parole sono appunto di a routine sayat nova un poeta nel settecento armeno le leggiamo da canzoniere armeno a cura di paola miltonian un libro che ha richiesto circa vent'anni di lavoro fra riperimento dei materiali e la traduzione degli stessi sayat nova è un poeta della tradizione armena ma anche georgiana ha vissuto e interpretato intensamente la multiculturalità della della sua zona di nascita e qui è praticamente sconosciuto ma grazie anche alla pellicola il colore del melograno di parashanov un regista allievo di tarkovsky possiamo apprezzare il suo lirismo che ovviamente interpreta tutti i temi cari anche dei nostri menestrelli europei ma come vedete sa essere molto tagliente nel suo schierarsi dalla parte dei dei più deboli e inoltre vorrei ricordare il fatto che si tratta di un autore che ha composto in varie lingue non solo armeno ma anche georgiano azero turco greco i suoi componimenti spesso presentano ogni verso in una lingua diversa e credo che questo segnale di forte compenetrazione sia estremamente necessario in in questo momento di tensioni e vivificazioni e riminescenze di nazionalismo quindi con queste parole di cura e sperando di avervi fatto un po conoscere un nuovo autore vi saluto e vi do appuntamento a domani a domani a Grazie.